Il neonato, il bambino e l'adolescente del terzo millennio propongono nuovi bisogni e richiedono nuove competenze. Un nuovo approccio quindi, un'interazione, una serena integrazione di tutti gli operatori che ruotano intorno al pianeta infanzia. Ieri a Taranto, nella sala conferenze della rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata, è stato presentato l'evento Pianeta Infanzia e le sue problematiche. In programma venerdì 14 e sabato 15 dicembre nella sala conferenze del Polo Universitario Ionico. L'intento è ricercare una nuova progettualità che veda i neonati, i bambini e gli adolescenti pugliesi, in particolare i tarantini, inseriti in un quadro di interessi comuni e non suddiviso in bisogni frazionati. Alla conferenza è intervenuta anche Dora Tagliente, presidente di Delfini e Neonati. L'associazione è nata nel 2014 su iniziativa di genitori di bambini prematuri e di alcuni operatori della neonatologia e della TIN della Santissima Annunziata. La nascita è perché io sono figlio di Taranto e quindi Taranto ha queste problematiche, cioè le problematiche di produrre una progettualità per i bambini speciali e anche per i bambini comuni. Perché Taranto sta vivendo insieme a tutta la nostra nazione Italia e forse ne è il prototipo, una involuzione e una evoluzione non sempre positiva della famiglia. Nella famiglia ci sono i bambini, i bambini nelle loro esigenze assistenziali, nelle loro esigenze culturali, nelle loro esigenze educative. Il progetto di questo nuovo congresso è quello di mettere insieme più figure, più figure che possono insieme produrre un linguaggio comune, perché di questo si tratta, avere un linguaggio comune per un progetto comune. E allora ci sarà l'intervento di magistrati del Tribunale dei Minori, nell'occasione proprio alla Presidentessa Bina Santella. Ci sarà anche Vilma Gilli che parlerà come magistrato, come gruppo della responsabilità professionale. Ci saranno nuove figure e nuovi progetti per la pediatria, la metabolomica, l'epigenetica con illustri relatori. Ci saranno anche le associazioni di volontariato, perché parleranno della loro azione e verso le quali io sono testimone della loro importanza e della loro vicinanza per sorreggere anche i nostri sforzi quando noi ci sentiamo come operatori un po' soli in quelle che possono essere delle carenze strutturali. Parlerà dunque Martina Bruscagnine, che è la Presidente di un'associazione nazionale di Vivere on Lusse, che tanto ci è vicina. Parleremo neonatologi, neuropsichiatri infantili, perché le problematiche relazionali stanno diventando preponderanti nella famiglia attuale e nel bambino attuale. E le problematiche relazionali cominciano già dalla tante in poi e ovviamente nell'adolescente. E siccome nell'adolescente possono concretizzarsi con passaggio all'atto, ecco che parlerà anche un rappresentante importante delle forze dell'ordine di Palermo, che ci parlerà di come prevenire la devianza. Il progetto è per la nostra città, ma può essere soltanto il prototipo di qualcosa che può essere poi trasferito altrove, perché il pediatra del terzo millennio è un pediatra che deve uscire dall'ambulatorio, deve stare con i problemi sociali e culturali, non può sganciarsi da questo perché non basta più vedere se il cuore, i polmoni e l'aspetto organico è così, ma l'aspetto olistico del neonato, che ci tengo a sottolinearlo, deve essere quello che deve essere il nostro progetto. Sicuramente è un'iniziativa estremamente importante per quanto riguarda la nostra associazione, che si muove tra l'altro all'interno della neonatologia. La nostra associazione del fine neonati nasce proprio a sostegno della neonatologia, dei bambini che lì nascono, delle loro famiglie, e si pone come obiettivo quello di favorire sempre più un'assistenza centrata sul bambino e la sua famiglia, che riteniamo sia l'aspetto centrale. Per fare questo lavoriamo a 360 gradi sia rispetto agli operatori, sia rispetto alle famiglie, agli operatori facendo anche formazione, una formazione mirata, una formazione anche diversa, di tipo esperenziale, proprio perché l'operatore comprenda il ruolo, il significato del proprio essere all'interno di un reparto di assistenza, ma naturalmente non possiamo non considerare la famiglia come un aspetto assolutamente centrale.